Gli attori Pierfrancesco Favino e Lunetta, Savino, la giornalista Licia Colò sono alcuni dei vincitori delle sezioni TV, Radio, Cinema e Teatro della 47esima edizione dei premi Flaiano che verranno consegnati domenica prossima 5 luglio al Teatro Monumentale. Gabriele D'Annunzio, questa mattina la proclamazione dei vincitori nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala consigliare del Comune di Pescara. La punta di diamante di questa edizione è Ellen Mirren, grande signora del cinema mondiale e poi ci sarà Favino per il film Mamet che credo conosciate tutti e che ha dato ancora una volta prova di una straordinaria capacità di calarsi nel personaggio e di renderlo reale anche cinematograficamente. Poi ci sarà Lunetta Savino per il film Rosa, per il teatro ci sarà Longobardi, per la televisione ci sarà Licia Colò, ci sarà un ricordo particolare del registro Sironi che ha portato in modo straordinario, ha trasposto i romanzi di Camilleri con il commissario Montalbano, ci sarà Licia Colò che per la sette ha realizzato uno straordinario programma ambientalista. Anche quest'anno le giurie hanno individuato le eccellenze della stagione, io ringrazio il lavoro sempre più importante delle giurie perché non è scontato individuare chi lavora bene, non è scontato dare dei premi, i premi Flaiano non sono mai stati dati con scontatezza o perché faceva piacere darli, sono sempre stati dati perché viene individuata la capacità di ognuno di contraddistinguersi nella propria attività artistica.